Lotta all'accattonaggio e all'abusivismo, nuove ordinanze in arrivo che saranno presto firmate dal neosindaco Massimo Bitonci. Contro l'accattonaggio, con il sequestro di tutto quanto, contro anche i bucum pra, quindi anche del materiale, ma soprattutto il divieto di campeggio in tutto il territorio comunale, a parte le zone destinate al turismo. E questo per combattere ovviamente i campi nomadi, soprattutto quelli abusivi. L'amministrazione non può tollerare situazioni come quella di Via Longhina, la luce anche del blitz della polizia che ieri nel campo nomadi ha arrestato 18 persone responsabili di assalti e portavalori e rapine. Da domani intanto potrebbe già essere revocata l'ordinanza di Rossi. Firmerò a breve, nelle prossime ore, la revoca dell'ordinanza col divieto di vendita di alcol, però firmerò in contemporanea una ordinanza che invece vieta il consumo dell'alcol, che secondo me è nelle stesse zone. Intanto è tempo di spending review a Palazzo Moroni. Ho tagliato tutte le auto di rappresentanza del comune. Io viaggerò con la mia auto. Gli autisti verranno utilizzati per altre mansioni. Questi sono veri tagli, dice Bitonci, che non approva invece la proposta del commissario della spending review, Carlo Cottarelli, che chiede di spegnere le luci nelle città italiane. Non mi piace assolutamente. Dopo una certa ora è giusto che ci sia una lieve riduzione in maniera dell'intensità. A Padova faremo invece un progetto importante per rivedere quelli che sono i costi, più che altro, della illuminazione, utilizzando LED. Una città più illuminata è, più è sicura. Tra le altre cose, Bitonci ha deciso di fermare i lavori per le piste ciclabili di Via Facciolati e Corfo Milano. Non si possono togliere parcheggi e poi bisogna rivedere gli orari della ZTL, un provvedimento che discuterà con la nuova giunta che potrebbe svelare già lunedì.